Il laboratorio di cucina sostenibile ha tutte storie, è la prima volta che lo facciamo, io e Raffaella Angela, lei insegna a costruire, a creare, a preparare la pasta partendo dagli ingredienti più semplici, acqua e farina di grano duro, sarda. Io successivamente metto a cuocere quello che lei e i bambini hanno realizzato con i forni e i fornelli solari, alcuni abbiamo costruito noi, altri si comprano già pronti, altri si possono creare partendo da altri oggetti. Il concetto è raccogliere la luce del sole, concentrarla e ottenere un forno, un fornello completamente gratis. All'interno, qui vediamo in cottura i culurjonis e i muffin che abbiamo messo, si è appannato tanto, meglio guardarlo dall'altra parte. Abbiamo messo in cottura i muffin e i culurjonis, sfruttando il calore che si concentra all'interno di questa camera di legno, vetro e lana di pecora, semplicemente raccogliendo il calore del sole. Ed ecco perché diventa sostenibile fare la pasta e poi cucinarla in questo modo. Grazie.